Mi piace pedalare. Scatto fisso. Niente freni. Non posso fermarmi. Anzi, non voglio. L'abbiamo trovato. Wiley, ho un pacco per te. È un priorità uno, niente cazzate. A New York. Pronto! Wiley! Quando tutto dipende da te. Ehi, vuoi spostare qualcuno? Può succedere di tutto. Ti chiamo a consegna fatta! Ora sono le 5 e 33. Deve arrivare per le 7. È estremamente importante. Come al solito. Grazie, buona giornata. Ehi, quella busta che hai ritirato. Devo chiedertela indietro. Una volta che è nella borsa, rimane nella borsa. Se non mi dai quella busta, non immagini nemmeno quello che ti aspetta. Perché avete chiesto proprio di me? Sono coinvolte persone che forse rischiano la vita. Che sta succedendo? È una situazione pericolosa. Restali fuori! Ti serve una mano? Tempo scaduto. Stai contrattando? Come no? Wiley! Stai contrattando?